12 kg di carburante al secondo passano dalla macchina della Intertechnique, un'industria francese specializzata anche per il riconoscimento in volo degli aerei, passano nelle stelle serbatoie delle monoposte, viva! Sparichello ha mantenuto la sua posizione nei confronti di Michael Schumacher, ma di Neuve ha perso la posizione nei confronti del Raikkonen, quindi molto vicini comunque i due piloti della Ferrari quando ha il secondo pit stop appunto di Michael Schumacher.